E adesso ci colleghiamo subito con la nostra inviata che vedo davanti a una location piuttosto misteriosa. A te la linea! Ciao Michela, siamo qui dall'R51, luogo di misteri misteriosi come gli UFO e l'Extension. Ma a proposito di mezzi pesanti, si è appena schiantato qui di prepotenza un mezzo dell'Atac. Sarà per questo che ha preso fuoco? Comedy Central News, da venerdì 14 maggio alle 23 in esclusiva su Comedy Central. Grazie a tutti.